Alessandro Gualtieri, professore ordinario di mineralogia all'Università di Modena e Reggio Emilia. Parliamo di amianto. Quali sono le interazioni fra ambiente, salute della persona e l'amianto? Sono interazioni importanti che non possiamo trascurare, soprattutto in un paese come l'Italia che aveva all'inizio del 1900 la miniera di amianto più importante dell'Europa occidentale e quindi da lì sono state estratte migliaia di tonnellate di minerale, di fibra che sono state utilizzate ovunque nei tetti, nella coibentazione delle navi, dei treni, nei rilevati stradali, nelle massicciate ferroviarie. Questo minerale, questo materiale è ancora presente nel nostro ambiente. Quindi bisogna lavorare, il nostro paese l'ha bandito dal 1992, bisogna lavorare per mettere in sicurezza tutti i materiali contenenti amianto e rendere zero il rischio per la popolazione. Questa è una priorità nel nostro paese, si sta lavorando in sinergia, le varie ARP, USL, il governo, le università per trovare le soluzioni che anche economicamente permettano questo tipo di azione sul materiale e di recupero. Esistono le tecniche di bonifica dei siti, quello che ancora manca purtroppo nel nostro paese è la fine del ciclo di vita di questo rifiuto pericoloso perché le discariche praticamente sono in via di esaurimento oppure non vengono aperte. Allora in questo momento ci troviamo in situazione di esportare i rifiuti pericolosi contenenti amianti in paesi come la Germania. Le soluzioni tecnologiche ci sono, speriamo che nei prossimi anni si vedano e vengano anche realizzate a livello industriale. Ma quanto amianto c'è ancora nelle case, nelle costruzioni del nostro paese? Purtroppo ancora tantissimi rifiuti contenenti amianto, non solo, ma non fatti che contengono amianto perché l'amianto viene ancora utilizzato se è in buono stato. Vi faccio l'esempio delle tettoie di cemento amianto, nome commerciale Ethernet, che ancora sono presenti sui tetti delle nostre abitazioni. Si stima circa che siano ancora presenti 2 miliardi di metri quadrati di lastre di cemento amianto. Purtroppo in cattivo stato perché sono state montate negli anni 70-80, sono passati più di 30 anni e vanno in qualche modo messe in sicurezza.